I cristiani credono e professano che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio e che, maschio e femmina, Dio li creò. Eppure non pochi mettono in discussione il fatto che da una sola coppia abbia avuto origine l'intera razza umana. Ma davvero il genere umano discende unicamente da Adamo ed Eva? E che cosa insegna questo proposito il Magistero della Chiesa? E di questo che parleremo oggi. Buongiorno, mi chiamo Samuele Maniscalco, benvenuti nel canale, i angeli sono con noi. Cari amici, non so se qualcuno di voi ha fatto caso a una data che, per chi segue questo canale, segna un traguardo importante. Una data che io stesso, mea culpa, ho dimenticato di celebrare con voi prima di questo video, che è il numero 146. A proposito, dovevo uscire diversi giorni fa, ma come avrete intuito, sono stato poco bene. Diciamo che mi sono beccato prima del tempo l'influenza stagionale. Adesso sono quasi del tutto guarito, a parte un po' di stanchezza, ma anche quella passerà soprattutto con le vostre preghiere. Preghiere che vi prego di estendere anche ad una persona a me molto cara, che sta molto male, e alla quale debbo molto della mia formazione cattolica. E qui, permettetemi una brevissima riflessione. Spesso ci chiediamo perché su questa terra dobbiamo soffrire così tanto, e perché le persone che amiamo debbano subire la stessa sorte. Ovviamente non affronteremo oggi una questione così delicata, ma certamente il male fisico e quello morale entrarono nella vita dell'uomo con il peccato originale. Peccato che qualcuno dovette materialmente commettere, che poi trasmise e continua a trasmettere a tutti i suoi discendenti. Ora, anche se oggi non parleremo di come affrontare la sofferenza, posso però dirvi che in questi giorni sto trovando un grande conforto nella recita di una novena in onore di Santa Teresina del Bambin Gesù. Una novena composta da un vescovo, Monsignor Noser, e che ha, diciamo così per titolo, gioia nella sofferenza. Proprio così, gioia nella sofferenza, perché per quanto l'uomo cerchi di scappare dalla sofferenza, non riuscirà mai a sfuggirle per davvero. È meglio dunque abbracciare le sofferenze che Dio ci manda e trasformarle in motivi di gioia in vista della vita eterna. Vi lascio in descrizione il link, se volete acquistare in lingua inglese il libricino contenente la novena. In italiano, infatti, non esistono delle edizioni in commercio. Ma dicevo, lo scorso 6 settembre il canale Gli Angeli Sono Con Noi ha compiuto un anno di attività. Un canale che ha ormai superato i 25.000 iscritti e che ha raggiunto il 1.600.000 visualizzazioni complessive. Un successo che debbo a ciascuno di voi, persino ai protestanti che spesso vengono a confutare la dottrina cattolica, a conferma dell'assioma che Dio trae sempre il bene dal male. Un successo che sono certo continuerà ad aumentare perché anche l'uomo immerso nella postmodernità non può fare a meno di porsi le stesse domande fondamentali che già si poneva duemila anni fa. Chi sono? Da dove vengo? E dove vado? Tre domande che hanno strettamente a che fare con Dio. Per cui un grazie di cuore a tutti voi che commentate, commentate, condividete i video e mettete un mi piace e un ringraziamento caloroso a chi in questi mesi ha sostenuto questo apostolato con una donazione e una tantum oppure iscrivendosi al gruppo Apostoli dei Santi Angeli. A proposito, nei prossimi giorni porteremo le intenzioni di preghiera di quanti fanno parte del gruppo Apostoli dei Santi Angeli al santuario di San Michele a Monte Sant'Angelo. Cliccate sul link che trovate in descrizione o anche nel primo commento e inviateci le vostre intenzioni. Se non siete ancora iscritti a questo gruppo o non sapete di cosa si tratta, niente paura, al medesimo link potrete saperne di più e decidere se iscrivervi o meno. Attenzione però, oggi è l'ultimo giorno disponibile per inviarci le vostre intenzioni. Affrettatevi. Ora, a proposito delle domande che ciascun uomo si fa, venne una connessa alla prima, da dove veniamo, che ha a che fare con l'origine dell'uomo sulla Terra. Noi credenti crediamo e professiamo che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio e che maschio e femmina Dio li creò. Crediamo anche che a causa del primo peccato, del peccato originale, i nostri progenitori persero la loro condizione primordiale di santità e giustizia e furono cacciati dall'Eden. Sappiamo anche che vissero una vita di preghiera e penitenza, morendo riconciliati con Dio e in attesa della salvezza promessa per i giusti che si sarebbe compiuta con il nuovo Adamo, nostro Signore Gesù Cristo, incarnatosi grazie al Fiat della nuova Eva, Maria Santissima. Crediamo e professiamo tutto questo, eppure non pochi di noi si saranno posti qualche volta la seguente domanda Com'è possibile che da una sola coppia abbia avuto origine l'intera razza umana? E' in fondo la domanda che alcuni di voi mi hanno posto commentando l'ultimo video. Ad esempio, Loredana Cognato ha chiesto Ma Caino, con chi si sposò? E Anna Palino, salve, volevo capire, ma da Caino come si è generata la sua stirpe? Agata fa una domanda più completa e chiede Buongiorno Samuele, vorrei capire se Adamo ed Eva ebbero anche delle figlie, oltre a Caino, Abele e Sette. Questi ultimi erano uomini. E le donne? Abele fu ucciso da Caino. Caino e Sette ebbero dei figli e delle figlie. Con quali donne? Perché c'è questo salto nella Bibbia? Forse mancano delle pagine? Rispondo dicendo già che questo non sarà un video scientifico, per quanto un brevissimo accenno in tal senso verrà fatto alla fine, e che la domanda che dobbiamo porci è A questo riguardo, cosa ha sempre insegnato la Chiesa? La Chiesa ha sempre sostenuto il monogenismo, ovvero la convinzione secondo cui l'intero genere umano è scaturito da una sola coppia. Contrapposta al monogenismo vi è il poligenismo, secondo cui il genere umano è scaturito da più coppie. Padre Marco Sales, nelle sue note esplicative alla traduzione italiana della Volgata, scrive E' certo che Adamo ebbe altri figli e figlie dopo Caino e Abele, ed è molto probabile che parecchi di essi al tempo del fraticidio fossero già adulti. E aggiunge che la moglie di Caino, essendo figlia di Adamo, era ancora sua sorella. Tali matrimoni, scrive padre Sales, erano necessari in quei primi tempi. Papa Pio XII, nell'enciclica Humani Generis del 1950, scrive in maniera categorica I fedeli non possono abbracciare quell'opinione, si riferisce al poligenismo, non possono abbracciare quell'opinione i cui assertori insegnano che dopo Adamo sono esistiti qui sulla Terra veri uomini che non hanno avuto origine per generazione naturale, dal medesimo come da progenitore di tutti gli uomini, oppure che Adamo rappresenta l'insieme di molti progenitori. Non appare in nessun modo come queste affermazioni si possano accordare con quanto le fonti della rivelazione e gli atti del Magistero della Chiesa ci insegnano circa il peccato originale, che proviene da un peccato veramente commesso da Adamo individualmente e personalmente e che, trasmesso a tutti per generazione, è inerente in ciascun uomo come suo proprio. La Sacra Scrittura di fatti afferma dovunque l'unità d'origine del genere umano, il libro della Genesi in questo è molto chiaro, e San Paolo parlando all'Ariopago afferma «Da un solo uomo Dio ha tratto tutto il genere umano per popolare la superficie di tutta la Terra» e nella prima lettera ai Corinzi dice «Il primo uomo, Adamo, fu fatto anima vivente, proprio per specificare che Adamo è un nome individuale e non collettivo». Ma soprattutto nella lettera ai Romani, l'Apostolo delle Genti espone ampiamente questa dottrina in relazione al peccato originale e all'opera salvifica di Gesù Cristo. dice «Come per un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte si è stesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. E dunque, come per il peccato d'un solo, la condanna è venuta su tutti gli uomini, così per la giustizia di uno solo a tutti gli uomini viene la giustificazione che dà la vita». Quando Papa Pio XII nel 1950 scrisse l'Umani Generis, ci fu una levata di scudi, ma fu profetico. Appena tre anni dopo, l'americano Watson e l'inglese Crick scoprirono il DNA. Ebbene, alcuni decenni dopo, attraverso l'analisi del nucleo mitocondriale, la comunità scientifica arrivò a formulare l'ipotesi che l'intero genere umano fosse scaturito da una sola madre. Quello che però è importante capire è che l'unità originaria del genere umano è inseparabile dalla dottrina rivelata del peccato originale, tanto che nelle sedute preparatorie del Concilio Vaticano I era stato formulato, in vista di una definizione, il seguente canone ovvero, se qualcuno nega che l'intero genere umano abbia avuto origine da un unico capostipite, Adamo si anatema. Dunque, ricapitolando, la Chiesa ha sempre sostenuto la teoria del monogenismo, ovvero la convinzione secondo cui l'intero genere umano è scaturito da una sola coppia. Ergo, Adamo ed Eva sono realmente esistiti, non sono delle figure mitologiche, e veramente hanno commesso il peccato originale che ha infettato la natura umana e che è stato trasmesso ai loro discendenti per propagazione, cioè per discendenza della natura. Se non fosse così, se tutto ciò non fosse vero, non avrebbe senso la redizione operata da nostro Signore Gesù Cristo. Bene, spero di essere stato abbastanza chiaro. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un mi piace e di condividerlo con i vostri contatti. E non dimenticate di lasciare i vostri commenti e le vostre intenzioni per Monte Sant'Angelo. Come sempre, chiedo e prometto preghiere. Se il Signore vuole, ci vediamo giovedì. Che Dio vi benedica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.